Musica Buonasera cari telespettatori, ben ritornati con noi in questo appuntamento che approfonderà in prima battuta un tema estremamente interessante che riguarda la nostra vita, quella di chi ci sta vicino degli animali, il rispetto per l'ambiente, un organismo, entreremo in un organismo in divenire estremamente delicato e che ha una funzione che va al di là di se stesso, parliamo del parco Natura Viva, per fortuna è vicino a noi e è anche visitabile ma prima di entrare come sempre dedichiamo il nostro tempo e il nostro spazio all'approfondimento con un ospite dello Spicci GL in modo particolare ma riguarderà temi che non solo sono del mondo degli impensionati ma anche dei cittadini e dei lavoratori in generale seguiteci tra poco